Buongiorno amici, buongiorno dagli studi di Isoradio. Adesso va di in onda eh? Morning Al Jaro, sono le 6.11.44, ci ritroviamo insieme dopo le notizie del GR1 delle 6, tra poco anche le informazioni meteo dall'Aeronautica Militare. Intanto posso anticiparvi che c'è vento forte sulla 10, tra Savona e Pietra Ligure e vento forte presente anche sulla Roma Civitavecchia. Il traffico è stato sbloccato sulla complanare di Bologna, rimangono delle code per incidente tra lo svincolo 5, quartiere Lame, lo svincolo 3 di Via Emilia in direzione nord verso l'autostrada del sole. E si sono formate code per attraversare la dogana svizzera sulla nove lineate Comochiasso, tra il lago di Comochiasso in direzione appunto del territorio elvetico. Le prime code arrivano da Roma, quelle per traffico intenso e siamo nel tratto urbano della 24, tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sta piovendo in A14 tra Poggio Imperiale e Taranto Nord e in A16 tra Grotta Minarda e Candela. Grazie a tutti.